La Luxa Chieti vince 86 a 68 contro Latina, terzo successo consecutivo, 5 uomini in doppia cifra, 19 di Meluzzi, top scorer, 46 punti dalla panchina. Presidente Marchesani, è un pomeriggio perfetto, lo possiamo dire? Assolutamente sì, un'ottima prestazione, a parte Davide Meluzzi, come hai citato, ma una prestazione veramente soddisfacente a livello di squadra. Abbiamo giocato una bellissima palla a canestro, abbiamo fatto divertire il nostro pubblico, anzi oggi eravamo sugli spalti veramente in tanti. Li ringrazio uno per uno, c'è stato veramente un bel pomeriggio di basket. Terzo successo consecutivo. Iniziano a vedersi frutti di coach Maffezoli, noi come società gli abbiamo dato piena fiducia, ci sta ripagando con un ottimo modo di far giocare i giocatori. Quindi sinceramente sono soddisfatto io, ma tutta la società è soddisfatta appunto dopo le prestazioni di oggi. Maffezoli, anzitutto i complimenti per questa vittoria, meritata, la squadra ha una grande identità, ma se dovessimo scrivere su un foglio la parola vittoria potrebbe trascriverla con la parola difesa? Tanto ti ringrazio perché ovviamente non era una partita semplice, come ho detto Latina, nonostante tutte le difficoltà, chiaramente veniva qui per giocare la sua partita. Devo dire che abbiamo giocato una partita, due partite, abbiamo giocato una partita dove ci siamo accontentati, una partita dove siamo stati frettolosi e una partita invece dove siamo stati intensi difensivamente e abbiamo avuto più pazienza in attacco e per fortuna questa seconda ha avuto la meglio. È chiaro che nel mio credo la squadra si vede difensivamente, quindi per me è importante avere un'identità difensiva importante e permettere poi che tutti si sentano coinvolti anche in attacco, ma una volta che la difesa di squadra ha funzionato. Quindi devo dire bravi ai miei ragazzi, è una vittoria importante, è una vittoria importante anche nel punteggio e questo ci permette di approcciare con più serenità le prime due della classe che sono le prossime avversarie.